Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video di Farm Simulator 2013 Oggi vedremo queste tre mod qui Praticamente le ho scaricate e le ho provate Quindi questo è come un test mod Al posto di mettervi i link di download perché magari li rimuovono o non riuscite ad accedere ai siti Le metterò in un pacchetto che potete trovare il link sotto al video Allora, innanzitutto volevo partire con questo case 180 Buon trattore, più che altro il trattore è molto stabile Molto stabile Poi premendo il tasto 5 normale abbiamo che si può sollevare il sollevatore davanti È un trattore che va entrosolco e ha anche il... Vedete che abbasso il tempo È entrosolco quindi è fatto bene e ha anche appunto lo sterzo davanti L'asse frontale che insomma si muove Vedete come uscilla per mantenere insomma stabile il trattore Allora, è molto stabile come dicevo funziona, non ho trovato difetti È fatto bene, non ha l'aggiunta delle seconde ruote E insomma per il resto... Per il resto va tutto bene Poi andiamo al secondo trattore Intanto porto giù questo Abbiamoci sempre le luci con i tasti 5 e 6 Più il tasto F Abbiamo altri Poi abbiamo questo bellissimo New Holland T9 Fatto veramente bene Come potete vedere E anche sentire Non vai in retromarcia Perché c'è il freno tirato Vedete Sulla destra Quindi prendo la barra spazzettrice Si toglie il freno Devo dire che è fatto veramente veramente bene Anche i lampeggianti Anche i lampeggianti come vedete Si... Insomma si vedono le luci per terra E... Non è... Non è intrusolto Come sentite anche quando frenate Sempre il numero appunto di freni Di freni ad aria La stessa cosa quando premete appunto Il cosiddetto Freno a mano E si frena Frena anche subito Poi premendo il tasto Abbiamo la possibilità di Dovete bloccare il volante Ma non è che Proprio si blocca Si blocca il ritorno del volante Per esempio Quando state facendo Delle retromarci Che state agganciando Insomma Delle cose E quindi avete bisogno Che Insomma Lo spostate Ma stia fermo Oppure va bene Per chi ha il volante Quindi Per farlo tornare indietro Per farlo tornare indietro Ogni volta Perché Se io premo la U Si rimette dritto In effetti Il pezzo del volante Diventa vero Abbiamo Vabbè Delle luci laterali Delle luci frontali Qui Dopo Altre luci posteriori E Fatto bene Molto bello E devo dire che Anche vedete Anche disegnato bene Quindi C'è un piccolo errorino Che ho notato Che è il fatto Di come sono state Poggiate le ruote Che in teoria Rispetto all'asse Sono state poggiate Diversamente Mi sembra Penso eh Si Vabbè Vabbè E non solo Allora abbiamo la possibilità Dopo Adesso tolgo Il Insomma il pezzo Tutto il pezzo in alto Allora con il mouse Premendo il tasto destro Abbiamo la possibilità Di Alzare e abbassare Insomma la testata E Di alzare Il tubo Poi premendo La O Apriamo Il tubo Viene Viene aperto E Premendo il tasto Prima era il tasto sinistro E adesso il tasto destro Abbiamo la possibilità Di Insomma Direzionare Il Insomma L'unici lato Che esce Quindi la distanza Se va a tutto distante O molto vicino Oppure Spingendo la destra A sinistra Possiamo vedere Insomma la rotazione Questo però compromette Che Dovete Stare lì sempre A spostare il tubo Se non andate dritti Quindi a girarlo Adesso Trovo a fare una prova Devo ancora Devo ancora provarla Comunque funziona Cioè nel senso Devo ancora provarla A trebiare Devo provare Però funziona Trinciare Scusate Guardate che si imbarla Come al solito Non mi ha paura Novanti La barra Ve la danno Ve la danno Loro Come vedete E Se selezioniamo La barra Forse C'è anche la versione Quella che non è Comandata dal mouse Comunque vi viene Fuori scritto Se è comandata Se è comandata dal mouse Allora Abbiamo Facciamo Buttiamo la direzione Al tubo Mettiamo Circa dritta Così Poi mettiamo Questo Questo comanda Cosa Ancora un po' Imparare I comandi I comandi Principali Comunque Qui Premendo il test 1 Va Veramente piano Un'altra cosa Che vi faccio Che vi faccio notare Come vedete Avete Insomma Il grano Che si vede Che tipo Va dentro Va dentro La trebia E' bello Da vedere Così Non si vede Una merito Comunque Guarda Sto andando E Funziona Abbastanza bene Anche dietro Qui Spinge giù Stritto Quindi Funziona Funziona anche bene Quindi sta a voi Decidere Insomma Dove Dove Spostare Dove Spostare Il tubo Comunque Qui Insomma Anche la Crone Big X 1100 Con le sue funzionalità E Adesso andiamo in cerca Ecco qui Abbiamo quella Normale Vedete appunto Che quando Premete la O Per aprire Per aprire Il tubo Si Insomma Si posiziona Già Si alza E quindi dopo Quando agganciate il carro E la fate partire Si posiziona Insomma Dove Dove Deve Posizionarsi Ok E Niente Anche per Questi tre mod È tutto E Volevo solo farvi Sentire una cosetta Che mi sono messo a modificare L'audio Della partenza Del Fiat 8090 Allora Di norma Dovrebbe partire Così Bene Quindi io ho detto Ma magari il trattore è un po' vecchio Fa un po' di fatica A partire E gli ho aggiunto Tre spezzoni Insomma Della partenza Modificando Il file audio Questo lo potete fare In qualunque trattore Che magari volete Abbellire O far Così Per farlo Insomma Più bello Adesso Sentite Ecco Sembra Faccia Fatica E andare in moto Una cazzata Però Vabbè Non sapevo cosa fare I video Non verranno fuori Proprio Molto spesso Cerco di farne Uno a settimana Poi ci sarà un periodo Ma insomma Ve lo Ve lo dirò Ci saranno Circa due settimane Penso di non caricare i video Perché sono insomma Al lavoro E quindi Torno a casa stanco Eccetera Quindi Non avrò tempo Di fare i video Forse Il sabato Se mai Esco Quindi Niente Anche per queste mode Tutto Sono Insomma Sono Abbastanza belle Fate bene Disegnate bene Soprattutto Il T9 Tutto il T9 È veramente Fatto bene Devo dire Proprio Cazzo È fatto bene Perché non è stato convertito In teoria È stato fatto proprio Da zero Quindi È stato fatto per RLS13 Comunque Per questo video È tutto Restate Iscrivetevi Per nuovi aggiornamenti Che farò Spero Anzi Spero Venga fuori la pace Perché ormai Ne è passato di tempo E i problemi Persistono E rompono Anche un po' Le scatole Comunque Per questo è tutto Da Marco95 È tutto Ciao a tutti E al prossimo video Ciao ciao Ciao